Fala galera, mio nome è André Cruz, sono creatore di Hitchwood Brasil e oggi andremo a fare una piccola introduzione, una piccola coreografia utilizzando solamente 4 movimenti di Afro Style Basic, ok? Come vedrete, poi durante la coreografia è molto semplice però anche molto allenante. Questa è l'idea, semplicità e allenamento. Quattro movimenti, che poi andiamo a fare otto ripetizioni per ogni movimento, poi dimezziamo a quattro, fino ad arrivare a solamente due ripetizioni per ogni movimento. Creando così la nostra coreografia e ripetendo fino alla fine della canzone. State con noi, connettete via noi, Hitchwood Brasil con voi, vamo che vamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!